Bene ragazzi, secondo video vendita, come leggete dal titolo, vendo il mio HP 74SU della Cima lo vendo, attenzione perché non è... già questa è una vendita un po' strana perché ha moltissimi problemi, moltissimi ha un problema di pescaggio, ha il problema del calcio che l'ho fissato con una vite quindi dovete comunque stringerlo più volte, tacca di mira rotta, tacca di mira posteriore rotta leva di armamento, penso si sia sganciata la molla dentro, selettore che non funziona, però che non funziona, cioè dipende, fa come gli pare, ogni tanto spara solo singolo, ogni tanto spara solo raffica e ogni tanto sta solo in sicura, però all'interno meccanicamente parlando sta bene, si ha l'op-up tira bene sul pallino e anche meccanicamente sta gira gira molto bene, quindi con tutti questi ah, vendo anche con due caricatori, uno funzionante e uno no, cioè questo è da sistemare perché la rotellina gira, però non sono... c'è un problema anche questo, però non so che tipo di problema, questo funziona, vendo questo qui come non funzionante a livello estetico però funzionante a livello di meccanica 50 euro spedito, spedito, quindi mettete 15 euro di spedizione che ve lo sto regalando a 35 euro, comunque ci andranno dei soldi, cioè ci vorranno dei soldi, un po' di soldi per sistemarlo, quindi AK74SU della Cima con due caricatori uno funzionante uno no, a 50 euro spedito.